Grazie Presidente, rapidamente vorrei elencare le caratteristiche che presenta il nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali e quelle che invece non presenta e invece caratterizzavano il vecchio regolamento. La prima è la possibilità di prolungare le concessioni, il vecchio regolamento prevedeva questa possibilità, il nuovo regolamento no. Una durata certa è stabilita nell'avviso pubblico, il vecchio regolamento non prevedeva, non aveva questa caratteristica, il nuovo regolamento sì ce l'ha. L'obbligo di applicazione delle tariffe comunali, il vecchio regolamento non lo aveva, concedeva solo una facoltà di applicare le tariffe comunali in cambio del 90% dello sconto sul canone. Il nuovo regolamento invece prevede che tutti gli impianti di tipo B e C abbiano l'obbligo di applicazione delle tariffe comunali. Il canone è calcolato sulla base di costi, investimenti e ricavi previsti. Questo è quello che prevede il nuovo regolamento, naturalmente il vecchio regolamento non prevedeva nulla di tutto ciò. La possibilità di effettuare, stipulare convenzioni con enti o federazioni sportive. Il nuovo regolamento lo prevede esplicitamente, il vecchio regolamento non diceva nulla a tal riguardo. Viceversa, il vecchio regolamento prevedeva la possibilità di effettuare affidamenti provvisori che, come ho detto stamattina, sono durati a volte anche mezzo secolo. Il vecchio regolamento non prevede alcun tipo di affidamenti provvisori. Un'altra caratteristica molto importante del nuovo regolamento è il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di altre istituzioni sportive. Il vecchio regolamento non lo prevedeva, credo che nessun regolamento in Italia preveda questo tipo di riconoscimento. Ed è una caratteristica molto importante che punteremo a presentare nei prossimi giorni a Lanci, perché vogliamo che il modello voluto con questo nuovo regolamento di Roma poi guidi tutti i regolamenti, possibilmente, degli altri comuni d'Italia. Una tutela esplicita alle discipline sportive di base. Il vecchio regolamento non la prevedeva. Il nuovo regolamento sì. Chiunque voglia cambiare le discipline sportive da effettuarsi all'interno di impianti sportivi comunali dovrà essere autorizzato. La revoca per i concessionari morosi per il pagamento dei canoni di concessione. Lo prevedeva il vecchio regolamento e lo prevede il nuovo. In realtà il vecchio regolamento lo prevedeva, ma sostanzialmente non si è mai applicato. Da questo punto di vista non c'è una novità nel testo del regolamento, ma ci sarà una novità nell'applicazione di ciò che il regolamento prevede. Si introduce invece anche la possibilità di revocare i concessionari morosi per il pagamento dei mutui, cosa che ha creato molti problemi. Come sappiamo circa un 15-20 milioni di mutui di cui il pagamento al momento è sospeso non possono essere affrontati. Sia perché nulla dice il regolamento per quanto riguarda le morosità, sia perché nulla prevede per quanto riguarda la possibilità di riequilibrare la gestione economico-finanziaria. Poiché il nuovo regolamento fa riferimento al codice dei contratti pubblici, questo finalmente sarà possibile. Investimenti inseriti in piani economico-finanziari. Il vecchio regolamento naturalmente non diceva nulla per quanto riguarda la pianificazione economico-finanziaria. Per il nuovo regolamento è una caratteristica fondamentale e servirà a calcolare la durata delle concessioni. Vengono regolamentate le attività commerciali e vengono regolamentate le attività ricreative nel nuovo regolamento. Nel vecchio invece non si diceva nulla. Quindi un impianto con un campo da calcio aveva sostanzialmente lo stesso canone di concessione di un impianto con un campo da calcio e con un ristorante. Forse c'è una leggera differenza tra i due. La valutazione dei titoli e delle qualifiche degli istruttori impiegati per i corsi. Il vecchio regolamento non diceva nulla sulla qualificazione degli istruttori. Il nuovo naturalmente sì e premia le associazioni, i gestori che hanno all'interno del proprio staff e istruttori qualificati. Obblighi informativi all'utenza su orari e tariffe applicate. Il vecchio regolamento non prevedeva nulla, il nuovo regolamento prevede la fissione di tariffe e orari di apertura e chiusura al pubblico ben evidenti. Regole differenziate per impianti differenti. Il vecchio regolamento sostanzialmente non prevedeva nulla. Anche la classificazione che è stata una dei 63 emendamenti presentati dalle opposizioni prevedeva sì una classificazione in cinque tipologie di impianti, ma poi nella sostanza quelle cinque tipologie di impianti, il paradosso è che per la proposta delle opposizioni non trovava poi alcun riscontro nelle regole da applicarsi. Quindi era una classificazione di natura estetica, nella sostanza però non comportava alcuna differenza. Nel nuovo regolamento ogni impianto viene trattato come un impianto singolo come un caso specifico. Infine la previsione del rispetto di standard qualitativi minimi. Ovviamente il vecchio regolamento non prevedeva nulla, a tal riguardo il nuovo regolamento prevede che ogni concessionario rispetti una carta della qualità dei servizi sportivi che ci impegniamo ad approvare entro i prossimi 12 mesi. Vorrei dire anche un'ultima cosa prima di concludere, un ringraziamento come detto già agli uffici, all'assessore Frongia, al CONI, CONI Lazio, a tutti i concessionari che come è già stato detto, lo ripeto, sono in gran parte partner dell'amministrazione e quindi ci hanno aiutato. Alcuni emendamenti sono il frutto delle decine di riunioni, incontri pubblici che abbiamo avuto nel corso di questi mesi. Non a caso, nonostante io abbia letto in questi mesi, i concessionari insorgono, rivoluzioni, mi sembra che in quest'aula io non sento nessuno insorgere, forse è la protesta più silenziosa della storia, quindi ringrazio comunque i giornali che ci danno la possibilità di dimostrare appunto alla cittadinanza che a volte sono leggermente distorte le notizie che diffondono ai cittadini. Per fortuna poi i fatti, il tempo è galantuomo e quindi i fatti dimostrano che il buon lavoro viene apprezzato. Quindi appunto ringrazio anche i concessionari che da domani lavoreranno insieme a noi per metterlo in pratica questo nuovo regolamento e ovviamente ci impegneremo per tradurre in realtà tutto ciò che abbiamo scritto in questi 23 articoli e vi ringrazio.